Ciao a tutti sono Alex, il biondo, benvenuti in un nuovo video allora ragazzi sono le 4 e mezza e ragazzi prima di iniziare saluto alle 3 persone che nello scorso video hanno commentato i primi 3 che hanno commentato sono Dennis Gamer, Christian Del Giudice e Arianna Molinaro li salutiamo e se anche voi volete essere salutati ora andate nei commenti i primi 3 che diranno Alex mi saluti io li saluterò nel prossimo video ragazzi oggi domenica sarà un giorno speciale perché? prima cosa ragazzi c'è il derby da cui tutti quanti non vedevano l'ora che ci fosse questo giorno cioè Benevento-Napoli e poi la cosa più speciale per me è che entrerò in campo sì perché prima della partita Benevento-Napoli giocherò contro un'altra squadra di Benevento e quindi sarà una grandissima emozione e poi finita nella nostra partita usciamo e ci andiamo a vedere la partita Benevento-Napoli dalla tribuna ragazzi mirano quanto spolliciate arriviamo a questo video ragazzi visto che è speciale 3.000 like cioè ragazzi se arriviamo al 3.000 like siamo grandi e ragazzi che dire ci vediamo dopo ciao siamo dentro Guerriero, Conti, Fragnito, Fasulo e Muccio la seconda squadra la parrocchia Santa Maria Assunta Lattanzi, Turci, Borrelli, Aversano Di Pietro, Finelli, Bocchini, Ricciardi, Zoino, Verdicchio, Inzoria, Dimeo, Fusco, Nazaro, Santini Allora, Allora Allora Grazie a tutti. 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 a tutti. anche a tutti. a tutti. grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. è finita. un'emozione. a tutti. a tutti.